Le nanotecnologie per aumentare l'efficacia dei farmaci per la cura del tumore cerebrale. Una ricerca condotta dal Laboratorio di Neuropatologia Molecolare dell'IRCS Neuromede di Pozzilli, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, l'ospedale pediatrico Bambin Gesù e la Harvard Medical School, apre una nuova strada al trattamento del glioblastoma multiforme. I farmaci antitumorali raggiungono con difficoltà infatti il loro bersaglio. Le cellule neoplastiche di glioblastoma, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale. Grazie alle nanotecnologie questo problema potrebbe ora essere superato. La prima fase di esperimenti è stata condotta in laboratorio, dice la dottoressa Antonella Arcella, prima firmataria del lavoro, dove abbiamo usato cellule endoteliali del cordone ombelicale. C'è ancora un altro aspetto da considerare, ancora la dottoressa. Con questo trattamento non solo il temozolomide, il farmaco standard utilizzato, attraverserebbe più facilmente la barriera ematoencefalica, ma ne verrebbe potenziata la sua capacità antitumorale. E nel solco di quanto rimarcato solo ieri ai nostri microfoni, dal luminare di neurofarmacologia professor Ferdinando Nicoletti, il percorso di ogni ricerca e sperimentazione medica è sempre assai complesso e lungo. La strada da percorrere è sala lunga, afferma la dottoressa Arcella, per quanto attiene alla citata ricerca, ma la prospettiva è quella di rendere più efficace una molecola già in uso. Questo significherebbe poter ridurre le dosi da somministrare al paziente con una marcata riduzione degli effetti collaterali. Insomma, la ricerca scientifica presso l'IRCS Neuromed, anche in questo specifico campo, procede incessante.